Buongiorno, 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 Aristaglia Grumi Ed eccola qua appena toffata Insomma, come vi dicevo, sono questi i nostri piatti forti Aristaglia Grumi e Ross Beef Classico Preparati per i nostri clienti, ma qualche vaschetta sicuro c'è ancora Anche il fondo per il nostro Ross Beef è pronto E insomma Aristaglia Grumi Ross Beef, ma con questa temperatura come facciamo a non preparare il soffritto di carne? Eccolo che parte E diciamo che stamattina sarà pronto molto presto Allora, tuffo veloce in banco, i nostri secondi tagli da macinare, macinato scelto La cervellatina classica sale pepe, la nostra salsiccia a punta di cottello Primo step Diciamo che fino adesso avete visto solo le foto Adesso pian piano almeno 4-5 piatti Ve li mostro Ed eccoli qua Il nostro procetto di maiale sempre perugino Lo straccetto con rucola e grana I nostri ambocchi da formaggio che in queste giornate sono perfetti Pranzo o cena, velocissimi Il polpettone ormai è inutile decantarlo più Lo conoscete benissimo La fracosta imperiale oggi è comunque martedì ed è appena arrivata E le nostre alette di pollo marinate Eccole qua Almeno questi ce la facciamo a descrivervi I wanna share this moment with you